E' uno dei sintomi più debilitanti del cancro e delle terapie usate per combatterlo, una forma di stanchezza estreme e persistente che rende difficile svolgere le più semplici attività quotidiane. E' la fatigue, spesso diventa più intensa durante la somministrazione dei farmaci oppure subito dopo. La sensazione può essere particolarmente intensa nelle 36-48 ore che seguono la salute di chemioterapia. Di solito la stanchezza scompare gradualmente alla conclusione del trattamento, ma alcuni pazienti continuano a sentirsi stanchi anche a distanza di molti mesi. Quando la fatigue entra nella vita di una persona, svolgere ogni attività può diventare un'impresa. Anemia, disturbi del metabolismo, sofferenza psichica possono esserne la causa. Il Dipartimento Oncologico della SST di Lecco ha in cura circa 5.000 pazienti, 1.500 nuovi casi ogni anno. Il 65% dei malati ha sofferto di fatigue, percentuale che sale all'80% durante la terapia. C'è un altro dato, il tumore più diffuso è quello alla mammella, rappresenta il 30% dei casi. Tornare alla vita dopo un tumore significa sconfiggere sintomi come la fatigue, ma anche non aver paura di guardarsi allo specchio, ritrovarsi con il proprio corpo, riprendere ad amarsi. Fondamentale, in questo senso, la chirurgia estetica ricostruttiva. Il leggero filo conduttore si chiama qualità della vita. Ben trovati a un nuovo appuntamento con Hashtag, lo avete visto nella nostra copertina, qualità della vita, il filo conduttore della puntata di questa settimana. Parleremo di tumori e di un sintomo molto comune, ma a volte sottovalutato, lo avete sentito, la fatigue, ci occuperemo di chirurgia plastica oncologica, qualità della vita durante le cure, dopo la malattia, sempre. Lo facciamo con il dottor Antonio Ardizzoia, direttore del Dipartimento Oncologico della SST di Lecco. Ben trovato, benvenuto nei nostri studi. Buongiorno a tutti. La prima volta a Hashtag. Prima volta a Hashtag, esattamente. E non sarà l'ultima, speriamo. Speriamo. E prima volta a Hashtag anche per il dottor Tommaso Guzzetti, direttore della chirurgia plastica della SST di Lecco. Benvenuto. Grazie. E bentrovato. Buongiorno a tutti. Ospiti due uomini, ma è una puntata molto al femminile, perché parleremo tanto di tumore alla mammella e non solo. Iniziamo però a parlare di questo sintomo, la fatigue, qualcosa abbiamo detto nella nostra copertina. Cosa c'è da aggiungere? Fatigue è un termine inglese difficilmente traducibile in italiano, perché spesso lo traduciamo con stanchezza, ma non è propriamente corretto dal punto di vista di quello che noi intendiamo con questo termine. La fatigue nel paziente oncologico, soprattutto, però non solo, pensate che adesso nel periodo Covid se ne è parlato molto, è una stanchezza che non è la stanchezza che noi normalmente pensiamo, immaginiamo, dopo aver fatto una lunga corsa, una camminata in montagna, una giornata faticosa. È quella sensazione di spossatezza, così almeno viene raccontata dai malati, che un paziente ha perché è malato o perché ha fatto dei trattamenti tipici, nel nostro caso i trattamenti oncologici e i trattamenti chemioterapici, e la racconta normalmente come quella stanchezza, quella debolezza, quella mala voglia, quella incapacità a svolgere le attività normali che non passa neanche dopo il riposo. Uno si mette sul divano, guarda la televisione, legge un libro, sembra che stia passando, va letto, ci si alza ed è esattamente come prima. Ecco, questa è una stanchezza molto invalidante perché la stanchezza, fra virgolette, sana, quella che si ha dopo una bella camminata in montagna, è qualcosa che passa e che è quasi positiva. Questa stanchezza, questa fatica e questa sensazione di malessere generalizzato invece viene avvertita perché è così come qualcosa di assolutamente poco piacevole, poco positivo. Un sintomo un po' sottovalutato. Quando stavamo preparando questa puntata, questo appuntamento, si diceva sì, non è facile, non è facile da considerare perché quando una persona ha un tumore, è malata di tumore, cioè la principale attenzione è su quello, sulla patologia oncologica, per cui sono altri sintomi che preoccupano e invece no, perché dicevamo nel 60% dei casi che arrivano l'85% sotto terapia. Sì, dietro a questa domanda ci sono due considerazioni che io considero assolutamente positive. Innanzitutto che è vero, è un sintomo nuovo e il fatto che sia un sintomo nuovo è perché noi abbiamo sempre poco indagata, per noi è poco obiettivabile, oggettivabile e uno lo può raccontare ma non è qualcosa che noi possiamo monetizzare in qualche maniera e dire di che livello è. È venuto un attimino famoso nel momento in cui si parlava di anemia, si parlava dell'elitropoietina come farmaco per curare l'anemia e si è iniziato a parlare. L'altro lato positivo però è che se ne parla sempre di più perché comunque l'ammalato vuole sempre più tornare a una vita normale. Forse 30 anni fa, 20 anni fa, lo scopo, come dicevi tu Barbara, era cercare di tornare a una vita normale nel senso di poter sopravvivere più a lungo possibile, poter guarire. Adesso l'ammalato oncologico giustamente vuole anche una vita normale, una qualità di vita che sia assolutamente accettabile e un sintomo come quello della fatiga va a impattare molto sulla qualità di vita, qualità di vita intesa come voglia di tornare a fare esattamente la vita normale che uno faceva prima del momento di malattia. Ed è possibile, è un diritto. È possibile, è assolutamente tanto importante quanto ricercare la possibilità di guarigione o l'aumento della sopravvivenza perché dietro a questo c'è il concetto di tornare a essere quello che uno è sempre puntato a essere. Tornare a una qualità di vita normale, poi ognuno può dargli il valore che vuole, però vuol dire poter tornare al lavoro, poter tornare a fare le cose che faceva prima, portare i figli a scuola, portare andare a trovare gli amici e fare le vacanze e ripensare alla sessualità. Quelle cose che caratterizzano la nostra giornata e quindi non essere più considerate in una categoria a parte che la categoria della persona malata. Se sono persone che hanno una malattia ma non sono persone diverse dalle altre perché malate. Esistono delle cure? Intanto a cosa è dovuta un problema di anemia? Citava prima. L'anemia è probabilmente una delle cause, sicuramente non è l'unica, ci sono probabilmente tanti fattori che non conosciamo ancora che potrebbero essere di tipo dismetabolico, non è facilmente codificabile come causa e da qui anche la difficoltà a trovare la soluzione al problema. Forse la soluzione migliore al problema a volte è aspettare che passi però sapere che passa e già l'idea che un sintomo, un disturbo è qualcosa di momentaneo, magari non a brevissimo termine, a medio termine però c'è sempre un miglioramento e questa è la cosa principale come possibilità. Una delle sostanze più utilizzate per esempio in America è stato il ginseng, pensate, questo vuol dire che proprio non sappiamo ancora in questo momento qual è la reale causa, ma tutto quello che può aiutare va assolutamente bene. Dicevamo nella nostra copertina il 30% dei tumori sono 5.000 i pazienti in cura presso la SST di Lecco, 1.500 nuovi casi ogni anno, ecco il 30% dei tumori sono tumori alla mammella. Cosa, dottor Guzzetti, cosa significa per una donna vedere cambiare il proprio corpo dopo la malattia e dunque quanto è importante il vostro lavoro? Beh, la ricostruzione della mammella penso che sia fondamentale nella psicologia della donna, essendo il seno o la mammella uno degli attributi di sessualità secondari più importanti, in un primo momento questa è una cosa che la donna stessa, la paziente in quel momento sottovaluta perché ha focalizzato l'attenzione sulla malattia, sulla cura della malattia. Quindi la capacità del clinico è quella di, in quel momento di difficoltà psicologica, fare capire come con le cure che abbiamo adesso, con i risultati che abbiamo raggiunto, noi dobbiamo guardare già all'immediatamente dopo, quindi è la cura anche psicologica della donna. E qui subentra la ricostruzione della mammella. Cioè una donna che fino a 20 anni fa, nella maggior parte dei casi entrava in sala operatoria con la sua mammella e usciva mutilata e non si vedeva più assolutamente bene e psicologicamente molto afflitta e distrutta da questa cosa qua, adesso nel 90, per quanto riguarda la nostra SST, nel 98 direi per cento dei casi la paziente entra con la sua mammella e esce con la mammella ricostruita da noi. Questa è una cosa, è un vantaggio enorme. Viene fatto, non viene fatto in contemporanea. Viene fatto in contemporanea, la ricostruzione è immediata e si distingue dalla ricostruzione differita che era quella che si faceva una volta o che si fa ancora dove non tutti hanno un chirurgo plastico a disposizione, perché non tutte le ASST o gli ospedali hanno un chirurgo plastico a disposizione. Quindi è una cosa molto importante per noi ancora più difficoltosa perché il paragone che la paziente fa col suo corpo è quello tra la sua mammella fatta dalla natura e dalla mammella fatta da me, che pur bravo uno possa essere non è mai così come la natura. Però e quindi la sticella si è alzata di molto. Però si entra per un intervento appunto di asportazione, per un tumore, però a questo punto ai giorni nostri, ai giorni d'oggi, non c'è più il momento in cui tu ti vedi mutilato. No, solo rarissimamente. Quando la malattia ha raggiunto un grado tale, ma non di gravità, di coinvolgimento a volte anche strutturale, che ci consente di, o è meglio per la paziente, di differire la ricostruzione dopo che le altre cure chemioterapiche, radioterapiche sono state attuate per avere un risultato più consono, più realistico. Quindi dare importanza prima di tutto alla cura della malattia, in quel caso lì, e poi la ricostruzione, che è sempre cura. È una cura più psicologica che rarissimamente, in pochi casi, deve essere differita. Diamo qualche numero sull'attività del suo reparto, perché naturalmente c'è la ricostruzione mammaria, ma non c'è solo quello. C'è. Ah, beh, in generale il reparto in quale Alecco esiste da ormai otto anni, più o meno, e i numeri sono sfavorevoli, nel senso che abbiamo tantissima richiesta. C'è una lista attesa purtroppo molto lunga e che si è ulteriormente dilungata a causa della pandemia. Quindi noi durante la pandemia, quando non abbiamo mai smesso di operare, quindi i tumori sono sempre stati operati. Logicamente con una frequenza di attribuzioni di sale operatorio tutto un po' inferiore dovuto al caos in cui siamo piombati. Adesso però si è ripartiti? Non ci siamo mai fermati. Siamo ripartiti quasi alla normale, ancora qualcosa da aggiustare c'è, però i numeri si sono fatti più grandi, quindi la lista attesa è molto lunga. Non voglio sottolineare questa cosa qua, ma è per spiegare quello che a volte le pazienti telefonano e chiedono. La SST ha messo a disposizione la maggior parte di sale operatori disponibili, perché gli anestesisti erano impegnati anche nella cura del paziente, in rianimazione e via dicendo. Quindi nonostante questo per forza si è allungata la lista d'attesa. I numeri sono alti, comunque non solo di lista d'attesa. Se prendiamo in considerazione i tumori mammari, noi più o meno operiamo uno o due pazienti la settimana, se facciamo una media, come trattamento del tumore mammario. La cura post, la simmetrizzazione controlaterale, che fa parte anche questa, cioè l'adeguamento della mammella controlaterale alla mammella ricostruita, fa parte anche questo della cura del tumore, purtroppo è stato posticipato per dare la precedenza alle persone ammalate di tumore. Quindi questo è quanto sta succedendo per la mammella, tumori della cute, noi operiamo tumori della cute, c'è un grosso afflusso, facciamo la chirurgia pediatrica per quanto riguarda la ricostruzione, gli esiti di ustione, sono tutte cose che entrano nella chirurgia plastica e tutte contribuiscono ad allungare queste liste d'attesa, purtroppo. Dottor Guzzetti, mi piace ricordarlo, lei è stato il primo chirurgo in Italia a realizzare la ricostruzione della mammella, lo leggo perché voglio essere precisa nei termini, utilizzando i lembi perforanti. Era il 1997, da allora quanti passi avanti sono stati fatti? Sono stati fatti diversificazioni più che passi avanti, nel senso che a Lecco noi ricostruiamo la mammella con 11-12 metodiche diverse, compresa questa sui lembi perforanti che attualmente non viene fatta perché l'impegno di sala operatoria è molto lungo, molto impegnativo e porterebbe via il tempo per curare altri pazienti tumorali. Per il discorso che facevo prima del bilancio rischio-beneficio e via dicendo. Però poter ricostruire la mammella in 12 modi diversi ci permette, ci consente di individuare la giusta ricostruzione per quella determinata paziente. Quindi noi possiamo non forzare le cose guidando tutte le pazienti verso 1, 2 o 3 tipi di ricostruttivi, ma possiamo la cosiddetta tailored surgery, la chirurgia su misura. Adeguare la ricostruzione a quel tipo di paziente per cercare in questo modo di ottenere il miglior risultato possibile. Invece sul fronte oncologico, le novità? Diamo un bel messaggio, dai, si avvicina l'estate, vogliamo essere positivi, ottimisti. Sì, beh, il messaggio... Perché avete detto che i numeri sono importanti, però... I numeri sono importanti, ma non deve essere quello che guida tutto il percorso che noi facciamo. Quello che guida il percorso deve essere anche appunto l'innovazione tecnologica, sicuramente abbiamo sentita, ma anche pensiamo farmacologica o di percorsi. Io penso che quello che noi abbiamo assistito negli ultimi 5-10 anni in oncologia medica non l'abbiamo mai assistito prima di adesso. Questo perché abbiamo farmaci davvero, l'ho detto più volte, molto mirati, molto efficaci. Tumori che prima non trattevamo, adesso riusciamo a trattare, ma non solo riusciamo a trattare, possiamo arrivare davvero alla guarigione o a lungo sopravvivenza. Sono i farmaci biologici, l'immunoterapia, farmaci che solo fino a 10 anni fa potevamo immaginare nella loro bontà, ma non avevamo mai capito davvero qual era l'importanza e cosa ci avrebbero portato. Adesso sono davvero pochi tumori a cui noi possiamo dire non abbiamo una cura perché non abbiamo un'arma a disposizione. Magari abbiamo delle situazioni che non possiamo curare per altri motivi, però davvero possibilità di terapia ormai l'abbiamo per tantissime situazioni, ma terapie che sono molto più efficace e molto meno tossiche. E questo si riallaccia al discorso di qualità della vita perché quell'idea di un'oncologia che era solo devastante per la persona adesso è molto meno presente perché comunque la gente davvero, se siamo qui a parlare, di poter tornare alla vita normale, a pensare alla fatiga, a pensare al lato estetico della malattia, che non è la medicina estetica, ma il lato estetico del problema cancro, credo che davvero i paradigmi stiano cambiando tantissimi e questo è un passo avanti notevole che forse vent'anni fa, quindici anni fa non ci siamo mai immaginati. Vaccino? Domanda sorpresa. Vaccino per i tumori è una delle strade che si stanno esplorando. Fino adesso i risultati non sono stati notevoli, ma terapie vicine alla vaccina terapia, ne abbiamo tanti, pensiamo l'immunoterapia per alcuni versi si può avvicinare a questo, l'utilizzo soprattutto in questo momento in ematologia, un po' meno nei tumori solidi, con le carati cell che sono i linfociti attivati, sicuramente vanno in quest'ottica, è qualcosa davvero anche dal punto di vista scientifico, dal punto di vista biologico, dal punto di vista della ricerca è assolutamente entusiasmante e infatti non smetto mai di dire che da una parte noi abbiamo il lato umano della patologia cancro, dall'altra abbiamo proprio quella che è l'innovazione che sta viaggiando a un ritmo molto elevato, ma anche che dà grosse soddisfazioni e con grosso entusiasmo da parte di chi fa ricerca. Ecco, peraltro dal punto di vista del lato umano l'ospedale di Lecco è molto attivo, io ho seguito una serie di concerti e poi varie iniziative, gruppi di incontri, di automoto aiuto fra le donne, adesso però vogliamo aprire una parentesi un po' più leggera ne approfittiamo, abbiamo in studio il dottor Guzzetti, vediamo questo servizio. Chirurgia estetica, i lecchesi la pensano così? No. Naturali è meglio? Secondo me sì. Penso che ognuno sia libero di fare quello che crede del proprio corpo, c'è chi esagera, chi non esagera, però credo che sì, sono pro perché comunque non penso che sia nulla di male. So che molto spesso lo fanno anche le donne, ma anche gli uomini in questo periodo. Se è necessario pro, dove è necessario però. Ma per lei o in generale? No, no, per me sono bello così. Chirurgia estetica, pro o contro? Oh mamma, pro, io sono esteticamente rifatta. Pro. Vuole dirci che cosa? Il seno. Ma è da quando sono piccola che lo voglio fare. Così, lo volevo rifare e l'ho rifatto. Ho deciso che devo modificarmi, mi sono modificata. Perché no? Anche il viso qualche cosina, bisogna aiutarsi, la natura ti dà, ma bisogna aiutarsi. Contro. Cioè. Come mai? No, beh, ognuno poi fa quello che vuole, però io personalmente sono contro. Cioè non lo farei mai su me stessa. Adesso sei giovanissima, magari cambierai idea. Spero di no. Sono pro, perché magari ogni tanto una persona ha bisogno per sentirsi meglio con se stessa può far bene, però non che deve esagerare, ecco. Quindi pro, ma non del tutto. Contro. Mi piace la natura, com'è. Poi è sempre un'operazione. Esatto. Che va comunque a influire sempre anche sulla salute fisica, secondo me. Contro. Contro. Ma su di voi o in generale? No, io in generale, allora, se riguarda per esempio il naso, il naso per esempio lo capisco perché è in faccia. Se riguarda, come tutte le cose, se è in eccesso, secondo me non va bene. No, insomma, si trova il modo di nascondere un piccolo difetto e conviverci. Esatto, esattamente, esattamente. Ognuno è bello perché è diverso. Boh, nel senso, ognuno può fare quello che preferisce. Tipo, io per il mio corpo mi vado bene così. Cioè, chi magari vorrebbe modificare qualcosa si vuole farlo. Benvenga. I frani sono bellissime. Eh, grazie. Brava. Ciao ragazzi, grazie. Ciao. Insomma, il dottor Guzzetti sorrideva. Ma come sentite, c'è questa piccola parentesi perché effettivamente la chirurgia plastica, perfettamente estetica, intanto bisogna dire che non viene eseguito all'ospedale di Lecco. In nessun ospedale. In nessun ospedale. In nessun ospedale. Anzi, per meglio dire, in nessun ospedale con il sistema sanitario nazionale perché chi pratica l'intramenia e opera in ospedale può fare la chirurgia estetica. Chi come me ha scelto di fare la libera protezione fuori dall'ospedale per mantenere le cose ben distinte non lo può fare in ospedale. Comunque il sistema sanitario nazionale non copre le spese giustamente per estetica. Però la richiesta è altissima, donne e anche uomini. La richiesta è alta, è alta e devo dire, per quanto riguarda la mia esperienza, soprattutto con mio grande stupore e forse anche incomprensibilità. Non me ne faccio una ragione, soprattutto in questi anni pandemici e post pandemici. Cioè la richiesta... Durante la pandemia anche. Durante la pandemia c'erano le richieste ma c'era proibito di farlo per alcuni periodi. Poi c'è sempre chi fa e chi non fa e chi segue le leggi, però in generale era così. Appena è stato concesso la possibilità di tornare a operare la chirurgia estetica la richiesta è aumentata molto. Nell'ultimo anno la richiesta è aumentata molto. Cosa si chiede in particolare? Ma sono sempre le cose che si dicono da sempre. Allora il naso forse è quello più richiesto. Per quanto riguarda la mia esperienza, forse anche per i trascorsi che prima citava lei, il seno molto. E negli ultimi anni soprattutto il seno. E poi un po' tutto il resto. Ecco, negli ultimissimi anni c'è stato un aumento più della medicina estetica rispetto alla chirurgia per una sorta di timore. Logicamente hanno indicazioni diversi, con risultati diversi. Bisogna vedere cosa uno vuole. Certo, somministrare il filler e il botox è diverso rispetto a una rinoplastica. Esatto, però per esempio siccome la digitalizzazione ha comportato una commistione di comunicazione all'inverosimilmente immediata, il rino filler che va per la maggiore negli ultimi anni. Cioè il filler fatto nel naso. Non nel naso. Fatto per correggere piccoli difetti del naso. Logicamente è un intervento di medicina estetica. Le indicazioni sono ben precise. Uno non può fare un rino filler se ha necessità di fare una rinoplastica. Quindi bisogna essere molto ben chiari e precisi con soprattutto le giovani che vengono a chiedere queste cose qua per non alimentare false illusioni. Che differenza c'è tra chirurgia plastica e chirurgia estetica? Chirurgia estetica è una branca della chirurgia plastica. Quindi il chirurgo estetico normalmente dovrebbe essere un chirurgo plastico. Purtroppo in Italia non c'è una regola, una legge che tutela questa cosa qua. Quindi in Italia chiunque può fare qualsiasi cosa, tranne la radiologia e l'anestesia se non ricordo male, basta che il paziente lo accetti. E questo vediamo cosa comporta. Abbiamo visto un caso recentissimo, lì non parlavamo di medici, la donna che è morta per l'iniezione di silicone al seno, che peraltro è vietata come pratica. Il silicone iniettabile è vietato per legge dal 1981 o 83 se non ricordo il prezzo, ma è vietato. Ciò non vuol dire che non ci sia chi lo faccia e quella è la riprova. Quello non era neanche un medico e quella è ancora una cosa più assurda. In casa. Sì, io non riesco a darmi una spiegazione per queste cose qua, perché in un momento di, come dicevo prima, di digitalizzazione completa, di comunicazione, di Instagram, di Facebook, non riesco a capire come una possa non capire la gravità di quello che sta chiedendo. Lasciamo perdere quello che lo fa. Delinquenti ce ne sono che rubano, uccidono, quindi ne troveremo anche a volte nella mia professione. Ma di chi lo chiede trovo assurdo che uno non capisca cosa sta chiedendo. E non si informi, insomma, un medico, un chirurgoplastico, uno specialista. Un minimo, un minimo. Ma delle vaschette con del silicone liquido in casa, iniettate nella mammella per avere un... Tra l'altro con un costo neanche bassissimo, perché ho sentito parlare di 1000-1200 euro, quindi non è neanche una cosa... 100 euro e vai. Non capisco, non me lo spiego. Non me lo spiego. È un'ignoranza che non ammetto. Io sono un po' categorico in queste cose qua e quindi non l'accetto. Eppure sono in un momento anche questi casi? Che siano in un momento non lo so. Spero di no. Ogni tanto qualche lamentela in più, leggevo anche questa settimana sui giornali, viene fatta, a volte in modo sbagliato anche dai mass media, che per vendere un giornale più o per avere un po' più di audience titolano a titoli cubitali, accusando già il medico in questo caso, o a volte i medici, senza che sia arrivata ancora una sentenza. Quindi anche in questo caso specifico a cui mi riferisco, il dire il chirurgo plastico era anche otorino, oppure mi ha operato una mammella diversa dall'altra. Io torno sempre alla paziente e dico nessuno è andato a chiamarla questa paziente a casa sua, è stata lei a scegliersi il chirurgo, quindi doveva interessarsi prima, cioè bando un po' all'ignoranza e basta con questa cosa. No, anche perché stiamo parlando della salute. Parliamo della salute, la chirurgia estetica è una chirurgia elettiva, vuol dire che viene fatta in un paziente sano, non è un paziente che è malato. Quindi da parte nostra, del chirurgo plastico, c'è ancora più apprensione, perché tu operi, sottoponi a dei rischi che ci sono, perché come tutte le chirurgie ci sono le controindicazioni, i rischi e le complicanze. Ogni tanto si verificano anche facendo le cose fatte bene, perché non è matematica, è chirurgia, può capitare. Bisogna dirlo bene prima, non bisogna fare le offerte del 3x2, non bisogna fare i prezzi bassi, però la gente deve capirlo. Siamo in chiusura. Io vorrei chiedere al dottor Ardizzoia di chiudere questa trasmissione dicendomi qualità della vita durante e dopo la malattia. Significa? Significa tornare a fare la propria vita che uno pensa di fare normalmente. Non esiste uno standard di qualità della vita. Noi quando facciamo le sperimentazioni cerchiamo sempre di trovare un modo per definire la qualità di vita che sia qualcosa di immisurabile uguale per tutti. Non è così. Ognuno ha la propria qualità di vita, ognuno ha delle priorità rispetto ad altri ed è giusto che comunque uno cerchi sempre e soprattutto durante un percorso di malattia sappia che può avere qualità di vita anche durante la malattia e dopo la malattia stessa. Grazie dottor Ardizzoia, grazie al dottor Guzzetti. Grazie a voi e buongiorno a tutti. Grazie ai telespettatori che ci hanno seguito. Ci vediamo martedì prossimo con una nuova puntata di Hashtag. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.